Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ho chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Per un incidente che ha coinvolto due pesanti tre chilometri di coda e traffico bloccato tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla FIPILI un chilometro di coda per lavori tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze. La statale 12 della Betone e del Brennero, chiusa tra San Giuliano e Pisa per abbattimento alberi. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!